buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 8 novembre 8 novembre 2023 vediamo subito chi si festeggia oggi ecco il santo di oggi è sangofredo di amien visse nell'undicesimo secolo abate vescovo il suo ministero non fu facile impegnato com'era nella sua attività di riformatore di pacificatore ebbe infatti molti nemici sia tra il popolo che tra i feudatari addirittura questi ultimi cercarono di avvelenarlo ma morì il cane perché mangiò per primo il cibo con il veleno e quindi questo salvò sangofredo sangofredo invece morì santamente all'età di 59 anni mentre faceva visita a una chiesa dedicata ai santi di cui era molto devoto ovvero san crispino e san crispignano morì santamente e quindi fu venerato da tutti questo è sangofredo di amien vediamo ora le previsioni del tempo ebbene oggi abbiamo una variazione il tempo sarà bello bel tempo con sole splendente per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati da ovest e sud ovest al pomeriggio saranno con una tensione più debole e quindi proverranno quindi dalla stessa direzione il mare è poco mosso le temperature 9 gradi la minima è molto scesa questa mattina 18 la massima il sole sorgerà anzi sta sorgendo proprio in questi minuti e spunta alle 6 58 e tramonterà alle 16 e 50 abbiamo sulla nostra scrivania il resto del carlino vediamo subito la pagina di fano l'apertura è dedicata alla sanità in merito alla visita che il presidente della regione marche francesco acquaroli ha fatto a pesaro e ha partecipato a una seduta del consiglio comunale monografico appunto sul tema della sanità è intervenuto con i suoi assessori con l'assessore alla sanità filippo saltamartini e con l'assessore alle infrastrutture francesco baldelli due personaggi ovviamente che si intonano con la costruzione del nuovo ospedale di muraglia nuovo ospedale che però suscita molti molti interrogativi ovviamente il presidente acquaroli ha lodato questa iniziativa ha detto ha arrogato alla sua giunta il merito di aver accelerato i tempi mentre la giunta passata aveva latitato per quanto riguarda le lungaggini burocratiche che avevano impedito di te di andare in termini esecutivi alla realizzazione del nuovo nosocomio ma ovviamente il centro sinistra non ci sta vediamo il titolo sanità i silenzi della regione agitano i timori muraglia toglierà tutte le risorse al santa croce e questo è un interrogativo a cui la giunta regionale non ha dato piena risposta dopo il forfè in consiglio non si placano le polemiche ora sono i 5 stelle che chiedono al prefetto di intervenire perché questa richiesta di realizzare a Fano un consiglio comunale sulla sanità ancora non è stata accolta biancani intanto interroga in regione i punti non chiariti da acquaroli nella sua presenza nel consiglio comunale di pesaro mentre l'udici accusa il sindaco che aveva perorato la causa dell'ospedale santa croce e dei confronti acquaroli tutto il suo passato per quanto riguarda le tesi per l'ospedale unico a muraglia e dunque non si spengono le polemiche sul futuro della sanità fanese all'indomani del consiglio comunale che si è tenuto a pesaro diamo i punti fermi di questo articolo l'articolo che abbiamo di fronte evidenzia l'iniziativa dei 5 stelle che chiedono al prefetto emmanuele a saveria greco di rivolgere una formale diffida affinché venga convocata in tempi brevi una seduta monografica del consiglio comunale di Fano sul tema della sanità e poi abbiamo il problema dei posti letto i posti letto ovviamente fanno l'importanza di un ospedale e questo un po' non è chiarito in modo particolare tra i rapporti del nuovo ospedale di muraglia con quelli del santa croce per esempio vediamo che nell'area intensiva compaiono 20 posti di neurologia ovvero di strocchi unit a pesaro mentre questi sono a Fano e i timori già espressi dal sindaco massimo seri che a Fano venissero sottratti i 20 posti di strocchi unit parrebbero dico parrebbero trovare conferma in merito a quanto detto in consiglio comunale di pesaro non si può immaginare infatti una sorta di sdoppiamento data che il numero complessivo di posti letto è comunque già ora di 20 e quindi quelli non si cambia e dunque ci sono molti punti interrogativi che invito adesso è difficile riassumerli tutti invito a leggere l'articolo a chi si interessa di sanità ma credo tutti i cittadini vediamo anche una iniziativa che coinvolge il centro itaca questo bellissimo centro di riabilitazione delle persone con problemi centro itaca taglio del nastro per il laboratorio la dimora si chiama infatti la dimora un nuovo laboratorio polivalente di formazione e accoglienza nato nel centro itaca in località madonna ponte il progetto che è sostenuto poi dal rotary club è gestito dall'anfas e si avvale della professionalità degli operatori della cooperativa orizzonte la dimora già ospita un laboratorio teatrale e uno di inserimento al lavoro legati al progetto dell'ambito sociale di cui è presidente e l'assessore al welfare di comunità dimitri tinti l'intenzione è quella di mettere lo spazio a disposizione delle scuole dei giovani e dunque della città quindi un nuovo servizio che viene predisposto dal centro itaca appunto per le persone disabili vediamo vediamo la cronaca violentata e picchiata avevo paura di morire davanti al giudice è comparsa una fanese di 25 anni che ha percorso ieri in aula tutta la sua relazione malata con il compagno si tratta di un 27enne di fossombrone che rischia ora una condanna a un anno e otto mesi lei ha 25 anni de di fano lui dicevo 27 de di fossombrone si amavano ma poi la relazione si è si è così voglio dire incrinata anzi è diventata turbolenta il ragazzo viene contestato al ragazzo vengono contestati tre momenti critici il primo il giovane accusato di violenza privata perché nel 2021 è stato accusato di aver tolto le chiavi del motorino della giovane impedendo che questa ripartisse nel campo di nel capo di imputazione c'erano anche le lesioni perché lui avrebbe malmenato la ragazza una ragazza allora non denunciò questo fatto agli inquirenti cosa più grave invece la violenza sessuale una violenza che sarebbe avvenuta nel marzo del 2022 al giovane si contesta il voler e l'aver voluto a tutti i costi completare un rapporto che era iniziato lei consenziente all'interno di una macchina parcheggiata di vicino a una discoteca di orciano la ragazza a un certo punto voleva interrompere questo rapporto il ragazzo invece ha voluto andare fino in fondo e per farlo ha usato violenza questo almeno dice la ragazza e poi il terzo episodio contestato si riferisce al fatto che il fidanzato avrebbe chiuso la ragazza nella propria camera per tutta la notte la ragazza poi è stata picchiata però questa volta la ragazza è andata al pronto soccorso si è fatta refertare i danni che ha subito e quindi questo costituisce una prova ed ora tutto questo va davanti al giudice il quale si è arrogato il fatto di dare la sua sentenza martedì prossimo quindi vedremo come andrà a finire voglio se voglio evidenziare anche questi tre articoli che appaiono a fondo pagina sul resto del carlino qui abbiamo un'iniziativa dei carabinieri parlano di sicurezza e hanno organizzato una riunione con tutti i cittadini e questa sera alle 18 nei locali dell'associazione vivere il poderino sottostanti la scuola media nuti per quanto riguarda appunto una relazione su come difendersi dalle truffe truffe sempre presenti nel territorio con tanti marchi ingegni per cui è utile sapere tutti i raggiri che usano i delinquenti per sottrarre soldi in modo particolare agli anziani e poi è un'iniziativa del comitato dell'arzilla che sarà presente durante una riunione che si terrà davanti al prefetto martedì prossimo insieme alle altre entità che sono interessate alla tutela dei corsi d'acqua che possono ovviamente esondare ebbene il comitato dell'arzilla sarà presente in prefettura per vedere quali provvedimenti verranno attuati per attuare la sicurezza di tutti i residenti e poi un altro articolo il terzo riguarda la piscina nei pressi dell'aeroporto questo mega impianto bellissimo che deve essere ancora inaugurato ebbene un passo importante verso l'inaugurazione è stato compiuto proprio in questi giorni con la firma della della intesa tra cassa fondazione cassa di risparmio di fano comune e gestori che hanno sigliato il protocollo d'intesa per la consegna dell'impianto quindi siamo veramente alle fasi finali giriamo la pagina e parliamo degli scavi di vitruvio quei reperti che sono venuti alla luce in via vitruvio mentre c'era uno stabile in costruzione ebbene un passo avanti anche qui viene compiuto perché lo stato intende acquisire al suo patrimonio tutto lo stabile scavi lo stato vincola l'area stime in corso per l'acquisto si parla di alcune centinaia di migliaia di euro per la zona di via vitruvio che il ministero dovrebbe acquisire dall'imprenditore paolo antonioni infatti paolo antonioni avrebbe ricevuto l'undici ottobre scorso la comunicazione per la comunicazione perché lo stato intende appunto acquisire l'area e quindi niente più appartamenti non so poi che cosa accadrà su quest'area comunque il fatto che lo stato intenda acquisire l'area vuol dire che si intende proprio proseguire gli accertamenti e vedere fino in fondo che cosa si nasconde nel sottosuolo il comune al quale potrebbe essere affidata l'area una volta acquisita dallo stato guarda con estremo interesse ovviamente il procedimento quello di trasformare tutta questa area archeologica in un museo di stato è una delle ipotesi poi che era sostenuta anche da vittorio sgarbi quando è intervenuto a visitare l'area valutando insomma l'importanza l'importanza rilevante appunto di quanto era venuto alla luce non solo mare ecco la guida agli eventi d'inverno questa è un'iniziativa dell'assessorato al turismo del comune di fano l'assessorato al turismo di solito nella stagione estiva pubblica un calendario di tutti gli eventi di solito si va da giugno fino a settembre ottobre eccetera e quindi rimane scoperta un po' tutta l'area autunnale invernale primaverile quest'anno invece una prima edizione di un calendario di manifestazioni che si svolgono in questo periodo è stata pubblicata e costituisce una buona promozione perché anche in questo periodo fano a tanto tanto da proporre e a tanto da scoprire tanto da intrattenere tanto da animare la città sono elencate tutte le manifestazioni che si svolgono dal mese di settembre fino a quello di maggio e quindi viene coperta tutta la bassa stagione anzi è un'iniziativa che va verso la destagionalizzazione per così ottenere una presenza turistica anche in questo periodo che generalmente è morto e speriamo che qualche albergo si mantenga in attività in più rispetto agli anni passati strade paga la regione ecco dove ebbene è una iniziativa dell'assessore alle infrastrutture della regione marchi francesco baldelli che ha annunciato l'assegnazione di due milioni di euro per migliorare la rete viaria comuni premiati sono parecchi abbiamo il comune di isola del piano carpegna terre roveresche san lorenzo in campo monte calvo in foglia tavuglia monbaroccio e poi ce ne sono anche altri sarà un bando emesso su scala regionale che ha messo a disposizione dei comuni di tutte le province della regione tutte le cinque province 6 milioni e mezzo di euro e del budget complessivo di 2 milioni 108 mila sono andate agli enti del territorio di pesaro urbino di cui 392 mila euro alla provincia per finanziare un progetto di 560 mila euro che riguarda il miglioramento della sicurezza stradale modo particolare nella provinciale 106 ponte molino foce forchetta e per agevolare l'accessibilità al monastero di fonte avellano e poi tutti gli altri soldi tutti gli altri soldi ai comuni di cui ho detto l'elenco i quali li utilizzeranno per migliorare la viabilità del loro territorio vediamo urbino a urbino si parla di un nuovo servizio per gli studenti universitari a petriccio nuove aule per oltre 700 studenti ieri primo taglio del nastro per il polo didattico dell'università una vera cerniera tra centro storico e zona periferica quella di pian severo dunque abbiamo un edificio con ampie vetrate aule moderne per accogliere oltre 700 studenti ed è questa la prima pietra del nuovo polo didattico dell'università di urbino appunto inaugurato ieri petriccio vediamo ancora un articolo che riguarda l'alto montefeltro un dialogo tra marcha e romagna per la strada provinciale 2 si tratta della strada provinciale del conca che ora è in pessime condizioni il sindaco i sindaci anzi incontrano il presidente acquaroli anche qui stanziati soldi un milione e mezzo per interventi urgenti vedete un po le condizioni delle strade che non sono certamente ottimali un altro fatto di cronaca accaduto a fossombrone maltrattamenti e lesioni un noto professionista è nei guai è accusato di avere picchiato la sua ex compagna un test è a suo favore dice è un bravo papà anche questo è una vicenda che si è manifestata davanti al giudice un si tratta di un professionista non viene detto il nome per cui non ve lo posso riferire un professionista comunque conosciuto e stimato a fossombrone però nella sua vita privata probabilmente non so se c'è qualcosa da nascondere o meno comunque tutto da chiarire davanti al giudice comunque lui deve rispondere del reato di maltrattamenti e lesioni ai danni della sua ex compagna per dei fatti che risalirebbero al 2016 comunque sempre questioni di comportamenti veramente violenti nei confronti nell'interno dei nuclei familiari che emergono costantemente nei giornali nei fatti di cronaca e questo dimostra come questo fenomeno sia ancora molto molto usato diciamo così a livello dell'aspetto sociale del nostro territorio e questo per quanto riguarda il resto del carlino ora diamo un'occhiata al corriere adriatico l'apertura è dedicata all'iniziativa dell'assessorato al turismo che anche d'inverno ha così redatto un elenco di manifestazioni l'assessore lucarelli presenta l'inedito calendario da novembre a maggio ecco qui vediamo appunto il calendario tenuto in mano all'assessore e poi ancora la medica addio alla medica resta un grande vuoto si sono susseguiti nei social delle sono susseguite delle attestazioni di cordoglio sono molte quelle che sono state elencate espresse appunto in facebook e negli altri siti per dare l'addio a questo personaggio importante che ha operato nella città di fano è il senso dei commenti per la morte dell'architetto le esequie oggi in duomo alle ore 15 la scomparsa di gianni la medica ha provocato una moltitudine di attestazioni di cordoglio quasi che la città intera riempita dal grande architetto di tanti progetti ora avverta un grande vuoto ebbene ci sono attestazioni da parte del sindaco massimo seri e ha detto la medica ha saputo declinare i valori e l'identità della città mettendo la firma sugli edifici più importanti la sua memoria ora vive nelle sue intuizioni e nella sua capacità di aver saputo tradurre le esigenze dello spazio e del contemporaneo e poi ancora attestazioni di cordoglio da parte dell'assessore samuele mascarin ovviamente per gli architetti è intervenuto anche stefano marchigiani che ha detto che gianni la medica aveva con la città e il territorio un rapporto che è stato mantenuto sempre vivo e prolifico fino alla fine qualificato da innumerevoli e straordinarie architetture e scritti che hanno saputo esprimere e spiegare a tutti il senso della sua professione commosso anche ricordo del regista aleandro castellani parente appunto di gianni la medica in quanto fratello della sua prima moglie maria dolores ancora attestazioni di luciano benini anche gli parente di gianni la medica che rileva le doti di ambientalista antelitteram e poi tanti tanti altri che si sono associati alle attestazioni di cordoglio ebbene poi oggi funerali in duomo sapori e motori fatture gonfiate reato prescritto per 17 imputati è andata bene per gli imputati davanti al tribunale di pesaro per questa vicenda che ormai si stava trascinando da lungo tempo infatti i reati di cui sono stati imputati erano sono dati prescritti e quindi nulla nei loro confronti l'accusa per l'annualità dal 2010 al 2012 della manifestazione organizzata al lido sembra che avessero gonfiato delle fatture però insomma la questione è passata in giudicato la dimora il laboratorio per l'inclusione e l'articolo che riguarda itaca sabato al centro itaca si inaugura lo spazio per il teatro e il lavoro quindi animazione per i disabili attenzione ai truffatori non date soldi e preziosi carabinieri oggi e domani a poderino e san lazzaro vi ripeto le ore si comincia oggi alle 18 nella sede dell'associazione vivere poderino a fano in piazza unità d'italia dove luogo tenente in carica mario facciola comandante della stazione locale spiegherà quali siano le migliori contromisure da adottare per così far fronte a certe truffe a certi inganni che vengono attuati dai malintenzionati e poi abbiamo un altro incontro alle ore 17 domani nell'oratorio di san lazzaro passiamo a terre roveresche in tre anni 120 milioni per migliorare strade e qualità della vita nei comuni la regione a urciano con 13 sindaci presenta l'ultimo bando per la sicurezza alla viabilità e abbiamo qui due momenti dell'incontro di cui abbiamo già riferito ed ora passiamo a san lorenzo in campo a san lorenzo in campo si parla di tesori di cantiano e suasa con il traino di pesaro 2024 si parla di archeologia suasa è una città antica di cui è stato messo allo scoperto solo una piccola parte ma abbiamo il suo anfiteatro abbiamo una domus veramente rilevante ebbene tutto questo dovrebbe far parte dell'itinerario archeologico di tutte le manifestazioni che caratterizzeranno pesaro quale capitale nazionale della cultura per il 2024 comunque l'itinerario archeologico presentato dalla conf commercio alla borsa di pestum un appuntamento abituale questo per la conf commercio perché è una vetrina molto importante di carattere turistico ma anche di importante di importanza culturale del nostro territorio e qui vediamo amerigo barotti mentre presenta questa pubblicazione che è veramente bella ed importante vediamo anche la pagina di senigallia non c'è oggi senigallia nella pagina della pagina del corriere non c'è abbiamo quella di iesi dove vediamo però un articolo che ci può anche interessare i ladri di rame fanno strage di polli via la corrente muoiono in 240 mila polli nel mirino lo stabilimento di pian del menico gli animali deceduti per asfissia indagano i carabinieri ebbene i ladri di rame fanno strage di polli per rubare il rame hanno veramente compiuto una ecatombe sono almeno 240 mila gli animali trovati morti all'interno dello stabilimento fileni di via pian del menico nelle campagne di iesi dopo un blitz notturno compiuto dai predoni dell'oro rosso staccando la corrente che hanno provocato un danno enorme a un avuto più aria e quindi sono deceduti ed è l'ultima notizia che vi segnalo per oggi chiudiamo qui i giornali terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi come sempre appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti